I omofobi, poi eravamo diventati negazionisti, mo' siamo addirittura a Novax. C'è una paura che attraversa le piazze contrarie a vaccini e Green Pass e a quella paura i populisti di casa nostra hanno deciso di fare in qualche modo da sponda. Io non sono Novax, ma non sono manco gretina. D'altra parte sono tempi duri, le spinte anti-europeiste si sono in parte esaurite e le crociate contro l'euro hanno fatto il loro tempo e la ribellione Novax è un'onda che i populisti d'opposizione e di governo non vogliono farsi sfuggire. Io sono contro ogni tipo di obbligo, di multa e di divieto. Anche se appoggia l'esecutivo Salvini non vuole lasciare libero il campo. Certo non è un popolo facile da corteggiare quello che si oppone ai vaccini, neppure per Giorgia Meloni. Giorgia, non siamo i centri sociali! Io ti ho fatto campagna elettorale e regionali! E poi gli italiani per la maggior parte sono favorevoli anche al Green Pass. Forse per questo Salvini e Meloni procedono dando un colpo al cerchio e uno alla botte. Loro alla fine si sono vaccinati, ma continuano a lanciare segnali a chi il vaccino non se lo vuole fare. Io mi sono vaccinato, ma questo non mi dà il diritto di imporre la mia libera scelta a qualcuno che è di fianco a me. Ma in seguire dubbi e paure sui vaccini sta facendo crescere il movimento Novax, come teme il professor Bassetti. E porterà voti ai populisti, come sperano invece Salvini e Meloni.